Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto parrucche e parrucchini bella parrucca nero. Circonferenza di copricapo è circa 22.5 pollici se avete una richiesta speciale, può essere fatto gli altri formati colore e figura come mostrato in immagine. Materiale Capello indiana reale e svislace Lunghezza 20 pollici Colore Nero naturale Può essere lavato. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazoniti, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione. Grazie. 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 Grazie.